Musica Benvenuti qui all'Hotel Royale a Sanremo Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra TG Events e Radio Number One Per conoscere amici e protagonisti che ci passeranno a trovare nel nostro quartier generale da qui a sabato Io sono Guglielmo e oggi ho insieme a me un esperto del controllo della mente, dei pensieri O soprattutto se vogliamo anche del miglioramento della nostra vita Gianluigi Sarzano, Mental Coach, benvenuto su Radio Number One Wow, grazie, grazie Guglielmo, piacere mio Siamo partiti con delle aspettative che deluderemo presto Ci lo vediamo nel corso d'opera Intanto, allora tu sei qui naturalmente per raccontarci un po' di quello che fai ogni giorno Ma io partirei, mi intruffolerei direttamente dentro l'atmosfera da festival Perché sarà un periodo di grande tensione per i cantanti Ovviamente, un periodo di grande tensione che si può gestire, che si può controllare Che si può addirittura utilizzare La tensione e lo stress sono risposte del nostro corpo, della nostra mente A uno stimolo forte E quindi, tutta la differenza la fa l'atteggiamento Ecco, atteggiamento che deve avere un artista che si sta per esibire sul palco dell'Ariston Davanti a milioni e milioni di italiani a partire da domani Avere un, diciamo, retroterra Cioè, essersi impegnato molto per arrivare fin qua Avere la completa consapevolezza delle sue possibilità Divertirsi E naturalmente, alcuni stratagemmi, strategie Tipo impossessarsi del parco scenico Tipo utilizzare le prove E tipo sapere anche che può dare il 110% Ma deve essere concentrato Non su quello che pensa la gente Ma su quello che piace a lui, sulle sue doti, sulle sue caratteristiche E quindi essere se stessi con semplicità Facile a dirsi Molto meno facile a farsi È un po' come i giocatori di calcio Che scendono in uno stadio Prendiamo San Siro, che è un emblema, la scala E tastano il terreno e guardano lo stadio Senza i 70-80 mila spettatori È una cosa con 80 mila spettatori è un'altra Però, se tu sei padrone della materia Se tu sei capace Se tu sei consapevole E hai voglia di divertirti e di viverla come un'avventura Tiri fuori il meglio Certo, adesso lo riassumiamo in 30 secondi Sembra facile Poi c'è un lavoro Ecco, andando invece a trasporre questi concetti Nella vita reale Nella vita di tutti i giorni Penso a chi deve presentare Un lavoro, una ricerca Davanti a un gruppo di colleghi Ai ragazzi in università Che discutono la tesi Davanti a tante persone Parenti, professori, amici, fidanzate, compagni E quant'altro Quali sono gli errori più frequenti Che spesso commettiamo Magari inconsapevolmente Quando ci approcciamo davanti a un pubblico A un pubblico molto vasto E crediamo magari anche di essere padroni della materia Quali sono gli errori che inconsciamente O consciamente commettiamo? Ma hai detto una cosa molto importante Che mi è piaciuta Quando crediamo di essere padroni della materia Ma intanto io dico che la mamma dell'autostima E la mamma anche della realizzazione Adesso usare la parola successo mi sembra eccessivo È l'impegno Quando tu ti impegni Quando tu dai il massimo Quando tu dai il meglio Tendenzialmente sei consapevole Quindi non la presunzione Ma la consapevolezza L'errore che commettiamo più spesso È quello di farci prendere dalle emozioni Preoccupandoci Ovvero occupando uno spazio che non esiste Occupandoci Prima del tempo Assolutamente occupandoci di qualcosa Che potrebbe accadere Ma tendenzialmente non accade Anziché vivere qui e ora Ecco noi siamo in questo periodo qua Anche un po' la generazione Del vivere sconnessi o connessi altrove Invece dovremmo essere presenti Qui e ora Goderci il momento Fare della nostra vita Ciò che desideriamo E ricordarci Che il nostro talento Riside nella nostra unicità Ci stanno anche gli errori Gli errori fanno autenticità L'importante non è sbagliare L'importante è capire come reagire all'errore L'errore ci può stare Non concentrarsi sull'errore Ma concentrarsi su quello che di buono abbiamo da dare Del resto Perché come dice il tuo ultimo libro Quello forte sei tu Alla fine È esattamente così È una frase di un grandissimo coach Mio papà Ma di fatto tu immagina Guglielmo Sette miliardi e mezzo di persone E anche il tuo gemello Omo zigote Non è uguale a te Non esistono due persone uguali Il nostro talento Risiede proprio nella nostra unicità Che è sinonimo di autenticità Ecco ma Io innanzitutto ti ringrazio per questa chiacchierata Però ti invito Anche Naturalmente attraverso TG Events E su Radio Number One Magari a fare un bilancio con noi Se vorrai più avanti Di come sono andate le esibizioni Di vedere chi è riuscito a controllare meglio L'emozione La preparazione Tutto quanto all'interno del festival Ti lancio questo invito E magari faremo anche una chiacchierata più avanti Se ti fa piacere Con grandissimo piacere Sarà divertente Poi Sanremo insomma È Sanremo Allora vi ricordo Quello forte sei tu Il nuovo libro di Gianluigi Sarzano Oggi con Radio Number One E TG Events Grazie Ciao